PEGI 18 Tutto ha avuto inizio 300 anni fa con la scoperta del Marchio Nero. Un manufatto alieno sepolto in fondo a quello che era il Golfo del Messico sulla Terra. Sembrava la chiave per ottenere energia illimitata. Finché non iniziò a generare demenza e orrende creature che vivevano oltre la morte. I Necronomori. I dettagli sulla tragedia del Marchio Nero originale sono scomparsi, inghiottiti da mille cospirazioni. Non prima però che una nuova religione nascesse per mano di uno dei ricercatori che se n'erano occupati, Michael Altman. La sua misteriosa morte lo ha reso un martire, dando vita alla chiesa di Unitology. Si tratta di un'organizzazione segreta che ritiene i marchi di origine divina e punta a ottenere un'unione perfetta di mente, corpo e spirito. Diverse generazioni dopo l'incidente del Marchio Nero, l'umanità si è trovata a un passo dall'estinzione per via della carenza di risorse. Disperati, gli uomini hanno cercato di replicare il Marchio Nero per attingere un'energia illimitata. I dati risalenti a quell'era non sono chiari, ma sappiamo che le copie del Marchio riuscirono. A un costo elevatissimo. Tutti quei marchi furono sepolti, nascosti in luoghi segreti sparsi per l'universo, nella speranza che lì restassero per sempre. 200 anni più tardi, però, durante un'operazione mineraria illegale su EG-7, la nave Planet Cracker USG Ishimura ha riportato alla luce una di quelle copie dimenticate, un marchio rosso. Con esso è iniziata una nuova ondata di infezioni del Marchio. Un superstite di quell'incidente era un tecnico, di nome Isaac Clark. Il Marchio gli parlò direttamente, facendogli un dono, uno schema mentale della struttura del Marchio stesso. Isaac fu catturato e torturato dal governo terrestre, la sua mente esplorata in cerca del segreto del Marchio. Così il programma Marchio venne riavviato, e ne fu edificato uno nel popoloso sprawl di Taitan. Poco dopo accadde il peggio. Lui riuscì a malapena salvarsi. Di quel luogo restò solo polvere, come era stato per EG-7. Da allora la crisi legata ai Marchi non ha fatto che aggravarsi. Isaac Clark, con la mente toccata dal Marchio, capace di realizzarlo e di distruggerlo, vive in clandestinità, deciso a stare lontano dal Marchio e da tutto ciò che ha causato. Esiste però una speranza. Un lontano pianeta ghiacciato, dove 200 anni fa qualcuno, in qualche modo, è riuscito a bloccare l'azione di un Marchio. Una luce del passato che potrebbe salvare il nostro futuro. Un lontano pianeta ghiacciato,